Mi chiedo se sono davvero così complicato, perché ogni tanto sento alcune persone che mi dicono che sono, appunto, complicato, cioè queste persone vorrebbero venire da me e non mi raggiungono perché sono complicato. La strada verso di me è difficile, a parte così la mia permanente tendenza a giustificarmi, però da un po' di tempo che ci penso e vedo che il Vangelo di oggi mi risuona proprio in questo senso. Mi spiego. Questo Vangelo è così esplicito nel dirmi che io ho qualche problema di ordine geologico nel mio cuore, nella mia persona. Però mi rivela anche che la soluzione c'è ed è una buona notizia. Intanto c'è una voce che mi giunge dal deserto, anche dal mio deserto, quando vedo attorno a me che non c'è niente. E mi dice che devo preparare la via, la sua via, la via del Signore. Wow! Perfino il Signore sta per arrivare nella mia vita, ma trova via un po' difficoltosa. Ecco, il testo dice che c'è una via tortuosa e impervia. In più ci sono i burroni che devono essere riempiti, monti e colli che devono essere abbassati. E' per questo che io dico è un problema di ordine geologico. E quando guardo come è la mia persona, come è il mio cuore, è proprio così. Via tortuosa e complicata. Mi lamento sempre e niente mi va bene. Sono diventato perfino, come mi diceva un amico, sono diventato uno specialista per la complicazione degli affari semplici della mia vita e della vita altrui. Appunto, sono complicato. Aiuto! Così pure, parlando dei monti e dei colli da una parte e dall'altra, dei burroni e delle voragini, vale a dire, molte volte mi autoesalto, mi sopravvaluto come l'unico supereroe sulla terra e così vivo, io vivo nel mio superbo e nel mio orgoglio. Spesso mascherato come stima di sé, come fiducia in me stesso. E poi basta un niente, basta un niente, mi precipito nel burrone del mio scoraggiamento, basta una critica da niente o un insuccesso qualsiasi per farmi cadere nel precipizio della mia depressione. E così mi sottovaluto in un modo esagerato e dico io non valgo niente, io sono il solito imbranato e il solito incapace, sono nel burrone. Ecco, evidenziate dal Vangelo di oggi. Ma chi può fare questa grande impresa di ristrutturazione? Per fortuna, in questa domenica, la prima lettura è così puntuale a darmi la risposta. Il profeta Baruch, nella prima lettura di oggi, dice, E' il Signore stesso che farà quest'opera in me, perché io possa procedere sicuro sotto la sua gloria. In effetti, anche nel Vangelo di oggi c'è qualche cosa di particolare in questo senso, nel riportare il testo di Isaia profeta. All'inizio dice, preparate la via del Signore, raddrizzate i Suoi sentieri, voi. E qui, quindi, mi devo dare da fare per questa preparazione. Ma poi, quando arriva il lavoro da fare per i monti, i colli e i burroni, il testo usa quello che quello che gli studiosi chiamano il futuro passivo. Ogni burrone sarà riempito, ogni monte, ogni colle sarà abbassato, le vie tortuose diverranno dritte e quelle impervie spianate. Ma da chi? Da chi? E, come si vede nella prima lettura, da Dio stesso. E' Lui che farà quest'opera in me. Sì, solo Lui può fare tali cose, perché solo Lui mi conosce davvero fino in fondo e prima della creazione del mondo, come dice San Paolo. Nessuno può farlo. Ma neanch'io, perché o mi sottovaluto in un modo esagerato, o mi autoesalto in un modo sbagliato. Solo il Signore, che estende la Sua misericordia in tutte le generazioni, come dice la Madonna nel suo Magnificat, può rovesciare quei troni dei ricchi e potenti che ci sono in me. Ma può anche, ricolmato di beni, l'affamato che c'è nella mia vita. Sì, Signore, solo Tu, solo Tu il mio Signore. Seduto o cammino, Tu mi conosci. Vieni, Signore, nella mia vita. Semplifica il mio cuore e la mia persona. Maranatà. Vieni, Signore, a salvarmi e anch'io, come ogni carne, vedrò la Tua salvezza. Grazie a tutti.